Buongiorno e bentrovati a mattino 6. Oggi venerdì 18 settembre si venera San Giuseppe da Copertino. Giuseppe al secolo Giuseppe Maria d'Esa è stato un sacerdote religioso italiano appartenente all'ordine dei frati minori conventuali. Fu beatificato da Papa Benedetto XIV nel 1753 e proclamato santo da Papa Clemente XIII nel 1767. E' il santo patrono di Osimo e di Copertino la cui festa si celebra il 18 settembre. Nacque il 17 giugno 1603 in una stalla ancora esistente nel suo stato primitivo. A sette anni iniziò la scuola ma una grave malattia lo costrinse ad abbandonarla. A 15 anni avviene la guarigione attribuita alla Madonna della Grazia di Galatone. Durante la malattia aveva pensato di farsi sacerdote francescano, gli mancava però la dovuta istruzione. Sentendosi protetto da un'assistenza divina si mise con impegno sui libri e superò gli esami con successo. Il 18 marzo 1628 fu ordinato sacerdote appoggiardo e quindi oggi viene venerato dai cattolici come protettore degli studenti. Per 17 anni visse nel santuario della Madonna della Gruttella in Copertino, amava tantissimo la Madonna che solleva chiamare la Mamma Mia. Nella devozione cattolica viene chiamato il Santo dei Voli a motivo della levitazione che secondo le cronache del tempo avrebbe compiuto in stato di estasi e che gli procurarono il processo davanti al Sant'Uffizio per abuso di credulità popolare dal quale però venne assolto. Subì due processi che lo relegarono dapprima in Assisi, poi a Pietrarubbia e infine a Fossombrone in isolati conventi romitori dei frati Cappuccini. Il 9 luglio 1657 fu restituito ai suoi confratelli e destinato ad Osimo dove morì. Il suo corpo è custodito nella cripta del santuario in un'urna di bronzo dorato. Ed ora apriamo la nostra rassegna stampa, lo facciamo con le notizie nazionali e dal mondo. Iniziamo dal sito del Corriere della Sera, vediamo come apre il Corriere. Ecco la grafica, la decisione, Fed, nessun rialzo, la Federal Reserve lascia i tassi invariati, preoccupano sviluppi economia globale. Tassi tra lo 0 e lo 0,25%. I recenti avvenimenti finanziari mondiali potrebbero comprimere l'attività. Rialzate le stime di crescita del PIL, USA per il 2015, ora prevista a più 2,1%, a giugno era del più 1,9%. E il testo a proda in aula, proteste al Senato, avanza il DDL, boschi, grasso, istruzionismo, non in museo, terrorismo. Berlino tenta di accoltellare una poliziotta iracheno ucciso dagli agenti. L'uomo, già condannato a 8 anni per un tentativo di attentato, si è tolto il braccialetto elettronico, ha cercato di aggredire un agente nel quartiere di Spandau. Secondo gli agenti era un sospetto islamista, la BILD legami con Al-Qaeda. Ed ancora l'emergenza, migranti, la Croazia vuole chiudere le frontiere, Holland, decisione adesso, oppure la Schengen muore. Dagli USA alla Birmania, tutti i muri del mondo, ecco i confini nel grafico riportato dal Corriere, dalla Spagna alla Birmania, quali sono le barriere costruite o in costruzione dagli stati per chiudere appunto i propri confini. Visita del Premier Renzi a Piacenza nei luoghi dell'alluvione. Dichiareremo stato d'emergenza e la fotonotizia, ecco Renzi, l'incontro tra Renzi e Bersani in prefettura a Piacenza. L'incontro con i sindaci dei comuni alluvionati, presente anche Bersani, che su Facebook aveva escluso riunioni o discussioni sulle riforme. Taranto, sindaco Stefano, colpito da pugni al torace, è in ospedale. L'attacco in municipio, bloccata una donna, il primo cittadino, reduce da un intervento chirurgico, è ricoverato. Il sisma, terremoto in Cile, un milione di evacuati per l'allerta tsunami, le urla in aeroporto, foto e video riportati sul Corriere, la scossa di magnitudo 8.3, l'epicentro in mare a 16 chilometri di profondità, 8 morti, onde di 4 metri sulla costa. E gli stipendi, CGL, operazione trasparenza, alla Camusso, 3.850 euro netti al mese. Il segretario organizzativo, presente ai conti della Confederazione, nessun aumento dal 2008. Gli extra vanno al sindacato, ai delegati, l'album delle figurine, una storia italiana. E il caso Berlusconi finisce nei guai per aver bevuto una bottiglia da 150 mila dollari. La visita con Putin, la regione occupata dai russi, Costa Cara, l'ex premier per tre anni, non potrà entrare in Ucrania. Mentre per la procura generale è stato stappato una bottiglia del 1755, è stappato in suo onore e appropriazione in debita. Scuola Ferrara Giannini contestata, lascia la festa dell'unità, circa 100 persone gridavano vergogna e dimissioni al ministro dell'istruzione. Ed ancora Senato Salvini Renzi, spero si schianti così l'Italia torna a votare. Il leader della Nega Nord sul voto a Palazzo Madama, Ducetto, senza fisco, ha detto. E l'intervista ancora a Boschi, faccio sogni molto più belli di quello di essere premier. La ministra per le riforme e i rapporti con il Parlamento, Renzi, resterà premier fino al 2023. Magari ne riparliamo in quella data. E a Roma la proposta del Comune ai 1200 dirigenti Atac, i controlli sui bus, l'idea della maggioranza capitolina per il giubileo e per far fronte alla carenza attuale di verificatori sui mezzi pubblici. A Torino non carico le carrozzine, tassista, lascia a terra, Pancali è successo al numero uno del comitato paralimpico, uscendo da un incontro con la giunta del CONI. Malagò si è detto, insomma, allibito. In provincia di Firenze abusò di una donna, dopo due anni frate, rinviato a giudizio. La vittima dopo un incidente stradale nel 2013 cercò conforto nel convento, dopo la benedizione sarebbe stata costretta a un rapporto sessuale. Ed ora passiamo al sito larepubblica.it, vediamo come apre rispetto al Corriere della Sera. Vediamo in apertura, ecco la Repubblica, Senato, Renzi, apre, sì, ha un'intesa, ma senza ricominciare. Da capo, l'idea di cambiare solo un comma dell'articolo 2, l'offerta alla minoranza DEM si tratta. Grasso non si mette istituzione in un museo. Scuola, attacchi e teorie non si fermano nonostante stop del ministro. Giannini denunce contro le menzogne. Ed ancora avanti, vediamo Saviano, la Camorra e l'ipocrisia del silenzio, crociata dei sindaci contro Gomorra 2, ok solo da Portici. A Napoli ancora in breve, blitz contro la Camorra, 40 arresti, manette diversi titolari di negozi della città. Croazia chiude ogni valico, siamo saturi, i profughi sfondano le barriere ed ancora c'è un vertice straordinario, è previsto per il 23 settembre. Andiamo ancora avanti, la Fed lascia i tassi invariati tra 0 e 0,25%, vincono i timori per la crisi cinese. Per le borse UE una giornata nel segno dell'incertezza. Atene chiude la campagna in piazza, il leader che ha salvato Nea Democratica, quindi supera Meimarachis, supera Tsipras in alcuni sondaggi. BCE, l'Italia usi risparmi da Sprid per ridurre il suo debito pubblico, Eurotower ripresa, prosegue ma più debole in Europa, 12 milioni di disoccupati di lunga durata. Ancora Confindustria più ottimista su PIL e lavoro, mezzo milione di nuovi posti in due anni, Export cresce a luglio, saldo positivo di 8 miliardi. Allarme sui mutui, rischio di indennizzo per chi cambia banca, una direttiva UE reintroduce la penale su estinzione anticipata. Sindacati, la CGL lancia l'operazione trasparenza, ecco quanto guadagniamo alla Camusso 3.850 euro, la decisione dopo le polemiche sui mega stipendi alla CISL. Contratti, scintille, CGL industriali, sindacati vogliono solo tagliare i salari, la replica, falso, regole nuove per la ripresa. Ed ancora a Ferrara, Giannini contestata alla fessa dell'unità da insegnanti e sindacalisti, annullato il dibattito. E a Piacenza, premier nelle zone alluvionate, in elicottero, sorvola l'Emilia, stato di emergenza e deroga a patto stabilità, abbraccio con Bersani, in prefettura, eccolo nella foto. La morte solitaria di Maria Carmela, la professoressa che diventò invisibile, Roma, la porta sigillata dai vicini per l'odore. E a Berlino, la notizia della polizia uccide terrorista iracheno, aveva tentato di accoltellare poliziotta, affiliato ad Ansar al-Islam, condannato nel 2008, era in libertà vigilata. Ed ora lasciamo le notizie nazionali e dal mondo, dai siti, per andare a vedere il messaggero, come apre oggi. Vediamo anche così nella prima parte, appunto, le notizie nazionali ancora e dal mondo. Vediamo il messaggero di oggi, in apertura, cosa riporta? Eccoci nella prima pagina, crescita bassa, frenata della Fed, vediamo se riusciamo a farlo vedere in grafica. Eccoci, riproviamo. Abbiamo un piccolo problemino, comunque, la prima pagina del messaggero parla ancora della Federal Reserve che ribalta i tassi in apertura e poi a Berlino, appunto, il terrorista di Al-Qaeda ed ancora il giubileo, caos, opera e il governo a Marino avanti senza deroghe. Ritorniamo, passiamo invece adesso alle, vediamo intanto le notizie riportate dal centro, vediamo le quattro pagine del centro, oggi dedicate appunto alle quattro province. Iniziamo con la provincia di Pescara, vediamo la prima pagina del centro. Eccoci, domiciliari per 850 disabili, Pescara sono bloccati dalle barriere negli alloggi popolari ed ancora la fotonotizia in centro pagina, caldo record, decine di anziani in ospedale, temperature fino a 41 gradi a Pescara. Il caso, presentazione di un libro, oggi a Roseto l'ex brigatista di Via Fani, arriva la Balzerani, Alessandrini, rispetto. Nelle cronache, sempre in Pescara, intrappola i falsi assistenti sociali ed ancora inquinamento, mare, tornano i divieti fino a Via Mazzini e sempre nel pescarese, boschi a fuoco minacciate, anche le case. In breve ancora serie B, domani alla San Nicola, sarà Fiorillo l'unica novità del Pescara a Bari. Calcio a 5, il Pescara lancia la sfida, Acqua e Sapone risponde. Passiamo ora alla provincia, la prima pagina della provincia dedicata a Chieti, Lanciano e Basto, prima pagina del centro. Vediamo come apre, eccoci, colpi di pistola contro il bar San Salvo, prese di mira le serrande del novantesimo minuto. In centro pagina, fuga di gas in centro, panico e scuola evacuata, Chieti, metanodotto rotto durante i lavori in strada. Nelle cronache, Chietino colpito, caldo record, paura per gli incendi ed ancora guardia grele, morto Elisi, l'imprenditore dei filati, il processo va a gareggiare ma è in malattia, risarcisce la ASL. Vediamo in breve l'appello, i Vescovi e Ombrina Mare si fermi il progetto ed ancora calcio domani a Trapani, Lanciano cerca il primo successo 2015 in trasferta. Passiamo alla prima pagina del centro dedicata alla provincia di Teramo, vediamo come apre. Eccoci con l'arresto, due chili di hashish, arrestati due giovani teramani sorpresi con la droga in casa e in centro pagina la fotonotizia, addio Giulia, mille dubbi nel giorno del dolore, i funerali della ragazza dilaniata sull'A14. Tra le cronache Tortoreto, cucina sporca, ristorante chiuso dai NAS ed ancora nei dintorni di Atri, campi a fuoco per un trattore che si ribalta e poste della cona, attenta alla rapina ma se ne va a mani vuote. Il mercato e il teramo calcio stringe per le noci è Moreo ed ancora Pallamano, parte la serie A in Lizza, due squadre teramane. Ed ora l'ultima prima pagina, quella dedicata alla provincia di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, sempre dal centro, vediamo come apre oggi, con quali notizie in prima pagina. Eccoci, vediamo in apertura qualche piccolo problemino con la prima pagina dedicata all'Aquila, Avezzano e Sulmona. E quindi direi intanto nel frattempo, visto che 3 su 4 edizioni parlano dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando la nostra regione e non solo, ci fermiamo per il consueto appuntamento con Giovanni De Palma di abruzzometeo.it e abruzzometeo.org. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Elisa, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Buongiorno, allora già anche questa mattina abbiamo potuto vedere che le temperature sono ancora alte, ci sono altri aggiornamenti? Allora, sì Elisa, le temperature sono ancora molto elevate perché sulla nostra regione, ma in genere sulle regioni centro-meridionali, continuano ad affluire masse d'aria molto calda provenienti dall'entroterra al Gerino, che appunto mantengono le temperature ben al di sopra delle medie stagionali. Poi sul versante orientale a ciò si aggiunge anche l'effetto del Garbino che favorisce un ulteriore riscaldamento, un ulteriore aumento delle temperature sul versante orientale della nostra regione. Tant'è che stanotte in riva al mare la temperatura segnava, il termometro segnava ben 34,4 gradi, un valore davvero molto elevato considerando che si tratta del mese di settembre. Nella giornata di ieri sono stati battuti dei record perché a settembre anche la stazione meteorologica di Montesilvano ha segnato un valore massimo di ben 39,8, quasi 40 gradi, che a settembre ovviamente risulta un valore decisamente anomalo. Ora la situazione continuerà a restare tale almeno nelle prossime ore, ma la tendenza è verso un graduale cambiamento perché se da un lato avremo degli annugolamenti, ancora con delle raffiche di vento di Libeccio, di Garbino sul versante orientale, temperature ben al di sopra delle medie stagionali, gradualmente a partire da domani assisteremo a una diminuzione delle temperature perché l'alta pressione e il flusso caldo tenderanno a spostarsi verso i vicini Balcani e verso la Grecia e l'aria calda verrà sostituita da masse d'aria più fresca di origine atlantica legata alla presenza di una perturbazione che tenderà a farci vista soprattutto tra sabato sera e domenica, e l'antena giornata di domenica, in particolar modo nella mattinata di domenica perché questa perturbazione la giungerà il centro nord sarà sostituita, sarà seguita anzi da masse d'aria più fresca che spaureranno una generale e sensibile diminuzione delle temperature, tant'è che i valori sul versante orientale della nostra regione diminuiranno anche di 12, 14, 15 gradi rispetto ai valori che si registrano in queste e si registrano nelle prossime ore. Da segnalare però che con il peggioramento in arrivo c'è la possibilità, dato l'elevato contrasto termico, l'elevato contrasto tra masse d'aria, c'è la possibilità di temporali anche di notevole intensità, quindi non si escludono forti temporali tra sabato sera e la giornata di domenica, con violente raffiche che diventano associate e c'è anche la possibilità e il rischio di grandinata, questo è opportuno segnalarlo anche se non è possibile prevedere la grandina con largo anticipo, però ci sono tutte le condizioni per far sì che fenomeni di questo genere possono verificarsi anche sulla nostra regione, quindi c'è da attendersi una sensibile diminuzione delle temperature a partire da sabato sera, ma anche più nella giornata di domenica, poi a seguire con tutta probabilità ci saranno ancora altre, perturbazioni atlantiche che favoriranno nuovi peggioramenti, soprattutto nei primi giorni della prossima settimana Elisa. Bene, grazie, grazie Giovanni, ti auguro una buona giornata e soprattutto buon lavoro. Grazie Elisa, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Io ricordo che oltre al sito internet abruzzometeo.it e abruzzometeo.org si può interagire direttamente con Giovanni De Palma attraverso il profilo Facebook di Abruzzo Meteo, ecco come possiamo vedere in grafica, grazie dalla regia Gianni Dareo e anche sul profilo Facebook personale di Giovanni De Palma, Giovanni De Palma sempre in attività, ecco, aggiorna di continuo il suo profilo personale, così come possiamo vedere in grafica. Quindi potete così postare commenti, porre domande, insomma essere sempre aggiornati in tempo reale sulle condizioni meteorologiche oggi più che mai, direi. Ed ora vediamo, prima di dare spazio alla pausa pubblicitaria, la prima pagina del messaggero, ecco il messaggero, crescita bassa, frenata della Fed, quindi si parlava in apertura appunto della Federal Reserve, non rialza i tassi, preoccupano la Cina e l'inflazione che resta ai minimi. Oggi le linee della manovra si punta a uno sconto sul deficit di 13 miliardi per investimenti. In centropagina l'iracheno condannato per un altro attentato era in libertà vigilata, Berlino terrorista di Al-Qaeda, lo vediamo nella foto, attacca la polizia e viene ucciso. Ed ancora giubileo, caos opere, il governo amarino avanti senza deroghe, Palazzo Chigi dopo l'allarme dell'anticorruzione sugli appalti a rischio, il sindaco presto nuova lista. E vediamo in breve riforme, Senato, Renzi accelera e sfida grasso, spunta l'ipotesi di ritocchi all'Italicum. Le stime ancora, Confindustria vede la ripresa, PIL più 1%, disoccupazione giù. E con la prima pagina del messaggero ci fermiamo per una piccolissima pausa pubblicitaria a tra poco. Eccoci rientrati alla seconda parte di mattino 6, continuiamo con il messaggero, quindi con le notizie regionali. Ecco la prima pagina, apre con il caldo record, allarme roghi, diversi focolai nelle aree interne, sospinti dal Scirocco, Canadair in volo, a Pescara punte anche di 40 gradi, torna il divieto di balneazione. Bruni, candidato Nobel, aprirà il premio Scanno, 4 riconoscimenti speciali e tanti ospiti illustri all'auditorium. L'Aquila, sequestrato l'immobile del centro per l'impiego, fondi post-sisma, nuovi guai per i Valentini. Entriamo all'interno, quindi vediamo centinaia di ettari in fiamme, gli incendi flagellano il Vastese, tre Canadair in volo per salvare gli abitanti di Liscia, lo Scirocco spinge il rogo, cronaca di una giornata campale. E' la notte da incubo, fuoco alle porte delle case, quindi in Val di Sangro ed ancora l'emergenza anche nel Pescarese. Non si esclude il dolo forestale e pompieri, uniti in duello durissimo, residenti evacuati, terreni e boschi in fumo, danni a un ristorante. Il raduno cai a Lanciano, l'Assemblea nazionale. Andiamo alla prima pagina dedicata all'Aquila, truffa sui fondi, nuovi guai per i Valentini. Sigilli al centro per l'impiego di via Rocco Carabba, ristrutturato con una serie di violazioni mirate ad acquisire i soldi post-sisma. Dichiarano aree calpestabili per 150 metri quadrati, la stima finale ammonta a più del doppio contributo di un milione e mezzo. E questa è la fotonotizia, i locali sequestrati dal ROS, appunto in via Rocco Carabba. E vediamo su questo articolo il contributo video di Filippo Tronca. Clamoroso sequestro, questa mattina l'Aquila e i carabinieri del ROS, supportati dai vigili urbani, hanno messo i sigilli al palazzo del lavoro della provincia dell'Aquila di via Rocco Carabba, che al piantare in ospite è il front office del centro per l'impiego. L'ordinanza è stata firmata dal Gip Guendalina Buccella della procura dell'Aquila. L'immobile, ristrutturato nel posto remoto, sarebbe stato infatti, questa l'ipotesi accusatoria, trasformato da residenziale a destinazione direzionale, senza le necessarie autorizzazioni. Affittato poi alla provincia dell'Aquila, che persi l'ufficio del settore lavoro del centro storico, si era dovuto adattare dentro i container di via della Crocetta. Sulla vicenda c'è un'inchiesta in corso. L'ordinanza ha concesso però l'utilizzo temporaneo degli uffici, dove lavorano una sessantina di impiegati, mentre l'area del front office, il cuore operativo del palazzo, sarà precluso, in quanto ci sarebbero anche problemi di natura tecnica e di specifiche autorizzazioni mancanti. E si sono vissute ore surreali al palazzo del lavoro questa mattina, con i disoccupati e i giovani con il curriculum in mano, al di qua del nastro bianco e rosso, che non capivano cosa stesse accadendo, mentre al di là del nastro gli addetti e lo sportello del centro dell'impiego svuotavano in tutta fretta le scrivanie e gli scaffali. Al nostro microfono il dirigente del settore lavoro della provincia dell'Aquila, Tiziano Amorosi, assicura però che riapriremo gli sportelli del centro per l'impiego in altri locali dell'edificio entro domani. Sì, è arrivato un ordine di sequestro da parte del GIP, la dottoressa Buccella, per il sequestro del palazzo, però nello stesso atto che ci hanno notificato i carabinieri è prevista la possibilità dell'uso temporaneo, non di tutta, ma di una parte della struttura. Quindi sposteremo gli uffici del front office al primo piano, cercando di contenere al massimo i disagi per l'utenza. Ed ancora nella prima pagina dedicata all'Aquila, la sentenza, la fuga di notizie per il concorsone, giornalista assolta, condannato Petullà, il giudice ha previsto risarcimento per le parti civili, due candidati, sindacato Will, SPL e il comune. Ed ancora all'interno, effetto sisma, scuole, binari, strade, così scoppito diventa una piccola L'Aquila, l'esodo verso Ovest dopo il terremoto, il sindaco Giusti, 2000 persone in più, in pochi anni scattano investimenti per i servizi. Un finanziamento di 2,1 milioni per un nuovo plesso scolastico raddoppiano i bimbi nelle prime classi. Ed ancora lo stadio Acquasanta, pronti i soldi per seggiolini e telecamere, consiglio di Stato, emiciclo, ricorso bocciato, lavori vicini, asili nido, ancora in breve, maestre precarie, trovato l'escamotage nel taglio basso, il palazzo Rinato, quel piccolo angolo Liberty di Napoli che si affaccia sulla villa comunale, 90 anni di vita cittadina, è una storia tutta da ricordare. Venne costruito dopo il terremoto di Avezzano da un avvocato che voleva riprodurre i colori partenopei. Andiamo ancora avanti, vediamo ad Avezzano, la cantante è morta, possibile il malore, ma un risultato definitivo si potrà avere tra qualche mese dopo tutte le analisi. Si sospetti su un vecchio intervento subito, il magistrato della Procura di Roma ha dato il via libera per i funerali, restituendo la salma ai familiari. Sul Mona, bus urbano con i freni rotti, sfiorata la tragedia ed ancora nella Marsica, accusato di pedofilia, concessi i domiciliari. Prima pagina dedicata a Pescara, a 40 gradi, il mare torna vietato, analisi negative, i divieti da via Balilla a via Mazzini. Ed ancora spending review, meno stampanti e atti via netbook, sul pizio risparmi per 30.000 euro. Nel taglio basso vediamo Parco della Cultura, Alessandrini in Corona, Spalletti, anche l'ex Cofa tra le aree strategiche per il futuro. Ieri il convegno con gli architetti. Vediamo ancora lavori in corso, riaperta via Croce, ruspe ancora al lavoro, sull'asse attrezzato, l'autunno dei cantieri, a fine mese di nuovo agibile, la corsia all'altezza di via Raiale, tempi lunghi per lo svincolo Camuzzi. Il comune fa il punto sulle strade chiuse dalle ruspe, lungo fiume dei Poeti, inagibile per tutto l'inverno. E la prima campanella, scuole, in arrivo, i nuovi arredi. La visita, vediamo Carabinieri, il generale Sirimarco Apescara, il nuovo comandante della legione Carabinieri Abruzzo, ha fatto visita alle istituzioni cittadine di Pescara. Ed ancora, Sipario, Claudia Gerini e Cristina Comencini, star della prossima stagione teatrale. Il concerto, musica antica, Laurum,isce in scena gli Orfei. Vediamo ancora il delitto di penne, i vestiti in chiodano Gian Caterino, tracce di interesse, secondo gli investigatori, sugli abiti sequestrati in casa del presunto killer del maresciallo Pantaloni, Maglia e Berretto, all'esame del RIS, sono stati trovati in un locale annesso all'abitazione dell'indagato. Nuovo arresto per di Carmine, insulti e botte ai carabinieri, il bis ai colli. E la trappola, falsi assistenti presi a Fontanelle, con la scusa di essere dipendenti dei servizi sociali, sono entrati in casa di un'anziana e hanno cercato di derubarla. Per fortuna, però, la donna ha avvertito subito il figlio, che risiede al piano superiore, mettendoli così in fuga. Nel taglio basso, la sentenza non ha condizionato il test e nuova soluzione per Cantagallo. L'emergenza, case popolari, blitz per cacciare gli abusivi. Un enorme cartoon colora la facciata dell'ex FEA. Ecco il murale tra artisti urbani, autori dell'opera, che accende l'edificio in abbandono. Prima pagina dedicata a Chieti. Eccoci, fuga di gas, evacuati i 170 bambini da scuola, rottura di un tubo allarme alla primaria di Porta Sant'Anna. Ed ancora, carichieti, riunione fiume sugli esuberi. I commissari confermano i numeri, 135 unità. La crisi, ortona, salta ancora il Consiglio Comunale. L'annuncio, piscina, caos senza fine, viola, parla di probabile risoluzione del contratto, i gestori smentiscono, il PD attacca. Ed ancora, vediamo a San Salvo, sette colpi di pistola nella notte contro un bar. Lo stesso locale subì danni a inizio anno per un potente petardo. Indagini serrate dei carabinieri, la procura vastese apre un'inchiesta marchese, incalza il sindaco. A Lanciano, per il giro di auto rubate, arrestati altri due giovani. Ed ancora Lanciano, addio alla sede del consorzio. E sempre in breve, a Lanciano, corso Roma sempre a piedi, sì del PD, insorgono i negozianti. Prima pagina dedicata a Teramo, che apre con lo scontro, le competenze senza avere fondi, provincia in guerra con la regione. Via Milli chiede risorse, soprattutto per le funzioni in materia di turismo. L'avvocatura ha diffidato D'Alfonso a rispettare la sentenza del Tar Abruzzo. Spending review, le compagnie telefoniche pagheranno gli asfalti in tempi di magra. Ingegnosa soluzione trovata dalla giunta comunale. Il blitz, due chili di hashish, sequestrati dalla polizia, a due disoccupati. Ed ancora, vediamo in centropagina di Pasquale, del PD, ZTL, danno erariale di oltre 300 mila euro. Questa la denuncia del consigliere comunale del PD. Il caso Brucchi e Campana rassicurano pigro, si farà la vedova di Ivan Graziani. Ci sono rimasta male per i continui rinvii. E passiamo ancora avanti. Vediamo sulla costa, Giulia Nova stop alle occupazioni di suolo pubblico. Arriva a sorpresa da Palazzo di Città il diniego. A ogni richiesta sia nuova che di semplice rinnovo. Il centrodestra si ricompatta, attacca Mastromauro, vada a casa, fa danni. Vediamo in breve, balneazione ancora ok verso la bandiera blu. Ad Albadriatica, recensioni negative, ristorante nei guai con il NAS. A Roseto, appello del liceo Saffo, nuova sede urgente. La nuova dirigente scolastica Elisabetta Di Gregorio, ho già riferito la cosa al presidente della provincia. Ed ancora, Val Vibrata, furti e droga, controlli e denunce dei carabinieri. Martinsicuro, inquinamento, l'aveco ancora nel mirino. Insorge il comitato difesa e ambiente con una lettera esposto. Giulianova, il COBA, punta ad allargarsi e va al TAR. Ed ora, prima dello sport, passiamo al quotidiano della provincia di Teramo. La Città, vediamo come apre oggi, venerdì 18 settembre. Quotidiano che apre con la notizia dell'evento dedicato ad Ivan Graziani. Ecco, Teramo Pigra con Ivan Graziani. Il fatto quotidiano dà la sveglia al comune per aver dimenticato il settantesimo anniversario del cantautore. E vediamo invece in breve, in prima pagina, Torre Cerrano, Parco Marino, Dorazio Vicino all'uscita. Ed ancora al Badriatica, cucine chiuse dal NAS grazie a TIPA Divisor. Ed ancora alla promessa, Pavone cercherà gli sponsor per il Roseto Basket. In basso, Festival del Virtuale, da verio a Teramo. L'importante è distinguere la fragola dal sasso. Ed ancora rapina le poste, sventata da una scusa. Sempre a Teramo. Vediamo invece in alto il comandante dell'arma, l'altro ieri in città. Sorpresa generale del 7 a Teramo. Proposta da Alfonso, turismo, tutto gratis per un giorno all'anno. Ed ancora Giulianova, maniaco, si spoglia e si tuffa nel fiume. Entriamo all'interno della città. Ecco la pagina dedicata alla regione. Quindi turismo, tutto gratis per un giorno all'anno. D'Alfonso lancia l'Open Day da organizzare per dieci anni. Obiettivo far conoscere la nostra regione. E vediamo in fare sistema. La regione è pronta a stanziare 9 milioni di euro per rilanciare un settore chiave per l'Abruzzo. Vediamo ancora in basso. Politica, mercante, contesta, la ghigliottina. Consigli imbavagliati dal PD. Andiamo ancora avanti. Ecco la pagina dedicata al cantautore. Amministrazione pigra su Ivan Graziani. Questo è il titolo. Il fatto quotidiano suona la sveglia alla giunta a Brucchi. Silente per il settantesimo compleanno del cantautore. 6 ottobre. Campana ci mette una pezza e promette un evento in piazza per celebrare nella giusta maniera il musicista Terramano. Ed ancora vediamo le multe contestate. Sono 9 mila, non 30, ma la di Pasquale del PD. Chiede chiarezza sui numeri delle sanzioni. e invita l'assessore a dimettersi. La replica durissima. La di Pasquale raccoglie le chiacchiere e dà i numeri, facendo confusione tra le sanzioni e i ricorsi. E dopo lo sciopero, frecciatine tra la Theam e 5 Stelle sulla sicurezza. Andiamo ancora avanti. Si tenta la rapina all'ufficio postale della Cona. Valordo si presenta allo sportello con una calza in testa, ma senza armi. L'impiegata lo manda via con una scusa. Calcia al rapinatore. La squadra mobile ha già dei sospetti ed è sulle tracce di un Terramano, forse un tossico dipendente. Il processo mai fatto sesso nel privé del Freeway, ex ballerina del Knight di Casemolino, sul banco dei testimoni. Cronaca, Ascish, due disoccupati arrestati per spaccio. La squadra mobile ha sequestrato due chili di sostanza stupefacente. Ed ancora il comandante generale dei Carabinieri spunta a Teramo e poi si ferma ad Isola. Il comandante generale dell'Alma ha colto alla caserma Porrani di Teramo. A destra il generale del Sette. Ed ancora provincia Prati e Ceppo. Asfalti fuori tempo massimo. La provincia annuncia cantieri imminenti. Intanto l'estate è passata con la figuraccia turistica dei crateri aperti. Gli interventi, lavori cominciati lungo la strada per il Ceppo sulla provinciale 48B tra Torricella e Rocca Santa Maria. Sarà risistemato anche l'asfalto che porta alla frazione di Villa Ripa. Cronaca, con lo scirocco tornano anche gli incendi in tutta la provincia. Giornata impegnativa per i vigili del fuoco. Trattore si ribalta e dà fuoco ad un campo. I ragazzi vanno a scuola in un cantiere aperto a Castelnuovo. Lavori antisismici non ancora terminati. Studenti costretti a studiare con gli operai alle finestre. E vediamo a Castelli, botte e insulti alla compagna. Trentottenne finisce a processo. I NAS chiudono il ristorante dopo le segnalazioni sul web. I giudizi negativi lasciati dagli utenti su TripAdivisor fanno scattare i controlli in un hotel. I provvedimenti, il titolare è stato multato mentre mezzo quintale di alimenti è stato sequestrato. Cronaca, furto e spaccio. I carabinieri denunciano due vibratiani ed ancora in centropagina Tortoreto, il funerale. Tortoreto piange, la 19enne morta suicida. Palloncini colorati e messaggi degli amici nella chiesa di San Nicola. Si sono svolti, quindi ci fermiamo su questo articolo, si sono svolti ieri pomeriggio alle 16 a Tortoreto i funerali di Giulia di Sabatino. La 19enne è trovata morta. Sulla 14 ancora in dubbio le cause della morte. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Parlo della perdona loro perché non sanno, non si rendono conto di quello che fate. Sono state queste le parole piene di amarezza pronunciate da Don Davide Pagnottella durante l'omelia per i funerali di Giulia di Sabatino. Accanto ai genitori della 19enne si è stretta tutta la comunità di Tortoreto, troppo piccola la chiesa di San Nicola nel cuore del Paese Alto, per contenere tutti coloro che hanno voluto rendere l'ultimo saluto ad una giovane vita interrotta lo scorso primo settembre, il giorno del suo compleanno, in una notte che resta ancora avvolta nel mistero. Il corpo di Giulia di Sabatino è stato ritrovato dilaniato lungo l'autostrada 14 sulla corsia di emergenza tra Giulia Nova e Mosciano Sant'Angelo. A dare l'allarme alle prime luci dell'albe è stato un camionista che aveva pensato di aver investito un animale. Solo dopo l'arrivo delle forze dell'ordine si è capito quanto era accaduto. In un primo momento gli investigatori hanno pensato ad un suicidio, ma poi le indagini della procura di Teramo hanno virato sull'istigazione al suicidio. Al momento gli unici elementi certi, in mano al PM Scordamaglia, sono i risultati del DNA che hanno identificato la vittima e le impronte di Giulia rilevate dalla scientifica sull'inferriata del cavalcavia, sovrastante il luogo del ritrovamento del corpo. Invece restano un giallo le ultime ore di vita della ragazza, avvistata per l'ultima volta dalle telecamere di sorveglianza di una villa lungo la strada panoramica di Tortoreto Alto. Per questo la procura più volte ha chiesto la collaborazione di eventuali testimoni. Ed ancora sul quotidiano della provincia di Teramo la città, il lutto. Ieri l'ultimo saluto di Alba Adriatica, Tabarro, Mauro Santoni, ex dipendente comunale, si è spento per una malattia fulminante. Sant'Egidio, sette ricevitorie per le scommesse nel giro di un solo chilometro. Andiamo ancora avanti, si tocca nel parco e poi si tuffa nel fiume, esibizionista rincorso lungo Biale Orsini dopo essersi denudato. È successo a Giulianova. Sempre a Giulianova arrivano i rinforzi per ottenere gli sfratti rapidamente, un incontro in prefettura politica. Il centro-destra si ricompatta, ambiente, acque pulite anche nei pressi della foce del Salinello. I dati dell'Arta chiudono in bellezza una stagione turistica da incorniciare. Il bilancio, la differenziata dei balneatori, tocca quota 98%, numeri sensazionali, quelli presentati ieri mattina dal consorzio COBA. Ospizio Marino, l'ambulatorio per i vaccini si trasferisce a Roseto a causa dei lavori. Ancora, a Roseto il sindaco Pavone riceve la squadra e si impegna ufficialmente a trovare imprenditori per sostenere il basket. Il comune raccoglie l'appello lanciato dagli sharks. Roseto, gli studenti del Moretti fanno il bilancio della collaborazione con l'ufficio turistico. A Datri, il giudice di pace riprende l'attività nella sede di Corso Elio Adriano. Il servizio è stato salvato grazie all'impegno economico dell'amministrazione comunale che si è fatta carico delle spese. Ed ancora a Silvi, Dorazio pronto a lasciare a fine mese, Silvi, Pineto e Provincia si accordano sul nuovo presidente, sarà rispettata la regola dell'alternanza tra i comuni. Vediamo nel taglio basso, sempre Silvi, cambio della guardia al comando della guardia costiera, il comandante Antonio Fusco si congeda per andare alla Capitaneria di Pescara. Nella pagina dedicata alla cultura, l'importante è distinguere la fragola dal sasso. Filippe D'Averio ha aperto ieri il Festival del Virtuale, una rivoluzione culturale, viene sempre dopo una mutazione. Il Festival del Virtuale è iniziato ieri pomeriggio a Teramo. Ed ora torniamo al messaggero per vedere la pagina dedicata allo sport. Vediamo la pagina Abruzzo Sport che apre con il Serie B, giustamente con il Pescara. Fornasier Io, Felice, a Pescara. Il difensore Veneto si è innamorato della città. È una realtà coinvolgente e la nostra squadra è proprio forte. Tacquino Biancazzurro, Aldegani a Bari senza timori, si ferma Mitrita. Domani quindi in Puglia lo attende un attacco temibile, una bella sfida firmare per il Bari? Assolutamente no. Vediamo su questo articolo il contributo video e il servizio di Paolo Renzetti. Una gara dai molti significati. Bari-Pescara vale tanto e anche più dei tre punti, visto che si tratterà della prima importante verifica dopo il convincente successo sul Perugia. I Biancazzurri saranno ancora una volta guidati da Levian Memushai, che ha segnato contro gli Umbri il primo gol stagionale del Delfino. Non mi aspetto nessuna accoglienza. L'anno scorso io rientravo da 16 mesi che non giocavo, era la seconda partita. fare un gol è stata un'esultanza liberatoria. Sappiamo che ci aspetta una partita difficilissima sul campo, sappiamo anche quanto ci tengono i nostri tifosi a questa partita qua, diciamo che è una partita molto sentita. Cercheremo di dare il massimo. L'anno scorso eravamo in un periodo dove non stavamo benissimo e forse da quella partita lì siamo riusciti a venire fuori. Ora invece è tutto cambiato. Questa sarà un'altra partita anche perché loro hanno una squadra più forte, secondo me, rispetto all'anno scorso. Fiducioso il presidente Daniele Sebastiani, che focalizza l'attenzione sulla sfida del San Nicola. In queste prime partite il campionato di Serie B ha sempre insegnato che può succedere di tutto, perché ci sono squadre che non sono ancora pronte, i giocatori che sono arrivati negli ultimi giorni hanno bisogno di un po' di tempo, però sicuramente è una partita importante, è un banco di prova sicuramente importante per il Pescara, ma lo è anche per il Bari. E per questo articolo ecco le fotonotizie. Quindi passiamo all'Avezzano. Avezzano in salute, Chieti deludente, appuntamento al derby. Giulianova confuso e senza idee, San Nicolò fiducioso per il futuro. A Miternina serve una vittoria. Il Teramo vuole piazzare il colpo Sforzini. Ed ancora, vediamo, da Versa, Missione Trapani, l'allenatore del Lanciano, il giorno storico della promozione, poi le sconfitte in quello stadio. È ora di tornare a fare risultato. Ferrari lo cercavamo da quattro anni e lui voleva venire qui ha un'intelligenza superiore alla norma, dobbiamo preservarlo. Il calcio sempre di Lega Pro, Coletta, L'Aquila, non c'è trattativa. Stop dal gruppo rappresentato dall'ex responsabile del settore giovanile della Lazio. E con la pagina sportiva termina la nostra rassegna stampa e quindi l'appuntamento con Mattino 6, subito dopo l'oroscopo del giorno. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Ariete è senza dubbio una fase stimolante. In tutti i campi vi attendono scelte innovative e importanti. Nel lavoro non lasciatevi distrarre o rallentare da dubbi. Non abbiate esitazioni. È il momento di tentare il tutto per tutto. Toro, giornata ricca di spunti creativi e di idee profigue che daranno risultati tangibili nel tempo. Dedicatevi ai vostri hobby con maggiore costanza. Vi permetterà di conoscere persone che coltivano la stessa passione. Gemelli, gentile come sempre, la luna vi regala preziose opportunità. I ritmi lavorativi sono serrati, ma a costo di guadagnarvi un posto al sole vi date da fare con zelo, mostrando una bella tenacia. Nella coppia sventola bandiera bianca. Cancro, il secondo round fra voi e la luna, con qualche piccolo accorgimento, si prospetta più facile. Tenetevi alla larga dagli snob. Non diramate inviti ed evitate le boutique. In amore, cercate un chiarimento, sarà più gratificante. Leone, la giornata è davvero promettente. Oltre ad un pizzico di fortuna, potrete contare sul talento diplomatico per ottenere aiuti e appoggi. Positivi i riscontri finanziari e possibilità di investimenti fortunati. Vergine, la luna rasserena la vita sentimentale e potenzia le vostre capacità di relazione. Si prevedono inoltre notizie rassicuranti in merito a un contratto o una causa legale che vi ha tenuto un po' sulle spine. Bilancia, sforzatevi a tenere un comportamento tollerante nelle situazioni che vi sembreranno più caotiche. Non preoccupatevi se qualche incomprensione si insinuerà nel vostro rapporto di coppia. Saprete cosa fare. Scorpione, la vita sociale si prospetta intensa e appagante, ma occorrerà tenere d'occhio un personaggio sospetto. La giornata non si presenta esaltante, ma con un pizzico di astuzia cavalcherete gli eventi. Sagittario, ecco finalmente una bella giornata, perfetta per tirarvi su di morale. Ideale per mettersi in gioco in amore e intraprendere iniziative vincenti. Se una nuova storia bolle in pentola, è il momento di abbandonare le resistenze. Capricorno, se la serenità domestica è turbata, la causa è della vostra innata permalosità che oggi è ai livelli di guardia. Evitate di improvvisare diete o cure estetiche. Fate sport per alimentarvi in modo sano. Acquario, le decisioni prese su due piedi si riveleranno azzeccatissime, a patto che vi lasciate guidare dall'istinto. La logica vi porterebbe fuori strada. La vita di coppia riceve una ventata di benessere, favoriti i viaggi. Pesci, giornata ideale per rimuovere intoppi legali, per avere la meglio in discussioni familiari. Molti momenti belli da spendere insieme a tutte le persone che amate. Feste, concerti, piacevoli viaggi. Come to me Come to me Come to me